Senti qua però, io ho delle responsabilità con la multinazionale, cioè ho sempre fatto il cazzo che volevo, non me ne frega niente, non devo vantare nessun successo, faccio musica perché per me è una missione, però io ci tenevo a fare un album più fruibile e essere un artista mainstream, perché sapevo di meritarmelo. Non è che puoi fare tutto nella vita, però un po' mi rosicava, ho fatto due strofe rap, sembra Smack Death, dove lui fa Akon che fa ritornello cantato e io faccio Eminem che rappa, ma in realtà rappresentano esattamente quello che io mi aspetto che sia un club infernale all'inferno, cioè il lusso, i peccati, anche la strofa nel pezzo con Kidiugi, poi ne parleremo di Kidiugi che è stato un fenomeno, io lì prendo il merito di aver avuto la visione.